Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dell'amplificatore per chitarra e voce a batteria Gypsy 2x8. L'amplificatore monta due woofer da 8 pollici, due drive da 25 mm e ha una potenza di 50 W RMS, con amplificazione in classe D. Andiamo a vedere tutti i controlli e funzioni. Nel Gypsy 2x8 sono presenti due canali con controlli di tono, volume e multi-effetto, un ingresso auxin gestito dal master volume dell'amplificatore, un ingresso usb o collegamento bluetooth per poter gestire la vostra musica proveniente dal vostro smartphone, tablet o computer, gestito tramite gli appositi controlli. Nei primi due canali del Gypsy è presente un pad a meno 10 dB che vi permette di attenuare il segnale. Nel Gypsy 2x8 è presente un ingresso foot switch che vi permette tramite un pedale sustain di poter mandare avanti tutti gli effetti disponibili nel nostro multi-effetto. E infine troveremo il tasto di accensione nel pannello superiore. Nel pannello posteriore troveremo l'uscita phones e l'uscita di eye out. Nella sezione batteria l'indicatore led ha tre colorazioni. Il led blu ci indica che la batteria è carica o sopra la metà. Il led viola ci indica una batteria al 50%. Il led rosso ci indica che la batteria è scarica e ha bisogno di essere ricaricata. Troverete ulteriori informazioni nel nostro sito. Alla prossima!